Ecco qui, oggi sono arrivato sul colle Fauniera, fa molto freddo, tanto freddo, dedico questa salita a Marco e a tutti quelli che mi sono stati vicini in questo periodo, in cui ho avuto anche degli acciacchi fisici. A 51 anni quasi sono riuscito ad arrivare in vetta dopo il colle di Agnello Alisoarte, al Fauniera. Oggi davvero era proibitiva perché fa freddo, c'era anche la nebbia, siamo a quasi 2600 metri e francamente qui c'è molto da emozionarsi, è duro, selvaggio, spietato il colle Fauniera, non ci sono uguali con altre salite, quello che posso dire è che qui veramente solo gli uomini con le palle salgono. Ciao!